Essendo una street work di Merano, tendo a lavorare con ragazzi dai 12 ai 25 anni e il loro tempo libero solitamente era quello di trascorrerlo fuori e in questo periodo di lockdown non hanno potuto più fare le loro attività, non potevano neanche fare sport o comunque uscire con gli amici e quindi per me è importante sensibilizzare il tema così da poter ritornare presto alla normalità. Per me è più inteso come un sorriso che si fa alla persona perché in questo periodo con le maschere non si vedono più le persone sorridere quindi potrebbe essere un gesto alternativo che si potrebbe fare per sorridere alla persona che si ha di fronte.